ciao a tutti sono giorgia e oggi anche se non c'è il sole come speravo porteremo giù in giardino i mici per la prima volta con la petturina vediamo cosa succede e speriamo che non si metta a piovere perché avevo deciso che sarebbe stato oggi e oggi sarà vedremo mi spiace che hai la petturina rosa dove vai? vieni qui uno questa purtroppo come vedete è un po' piccolina ma poi gliele prenderò una della misura giusta due spero di avergliela messa bene vedete mi sembra che questa parte qua gli sia un po' corta perché gli tira indietro però cioè due dita ci passano forse anche forse anche un po' larga ma questa è abbastanza stretta speriamo che basti adesso prendo boni boni è lì sotto e non viene io vedo i rumori cosa succede invece boni è andata nella vecchia cassetta è andata nella cassetta questo è il tuo questo è il tuo boni questo è il tuo guinzaglietto per andare in giardino sentivo dei rumori anche di qua pensavo si stesse strozzando col guinzaglietto e invece sta giocando come se niente fosse invece sta giocando anzi è un giocone che cos'ha ecco siamo riusciti a prendere anche boni e mettiamo la pettorina a boni che però non è tanto lei non è tanto convinta di questa cosa non è tanto convinta di questa cosa no ce la faccio da sola ecco 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 e due Nina è un po' stretta beh un po' stretta deve essere ecco ho fatto Ninina sei pronta anche tu proviamo dai se poi hai paura torniamo su intanto è bello provare tutti adesso lasciamo che si abitui un pochino boni con con la pettorina due minuti non sono messo anche a boni vediamo vediamo boni allora qui ci passa bene il ditto forse qui un po' streffino no, forse troppo largo il collo ma che bravi che siete gattini venite, venite che vi do un dolcetto di premio, lui ce li mangia tutti, Banni vieni, guarda, vieni, misi, vieni Madis, vieni, mi amo, vieni, 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 Vieni vieni andiamo. Bravissimo Matista, andai. Ok, il uno è andato. Adesso prendiamo Bane, che è comunque ancora bloccata lì. Nella stessa posizione di qui, lo abbiamo legato. E siamo pronti a partire. Ecco il giusto che arriva. Guardate ragazzini, ci mettiamo qua. Facciamo il Pepe qua. Tutti due che guardano. Andiamo. Anusate, anusate. Proviamo, metteremo qui? Sì. Aspetta. Allora, ma attenzione a questa cosa. Vieni. 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 Vienesco, è bellissimo. Dai che sia un giardino, amore. Guarda, faccio un leggetto. Cos'è? Vieni, 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 vieni Vieni E così sono più tranquilla Adesso ci sediamo Continuo Oh, dammi, lo riprendo io Proprio il posto perfetto Ecco, ecco, è uscito Ecco, ecco Nusa, nusa tutto, amore È l'erba, quella non l'hai mai vista L'erba tu, vero? Oh, meno male che la tengo E' già fatta in quarta E' già fatta in quarta E' già fatta in quarta Ecco, di nuovo Ehi, fatti vedere bene Che bello che sei Bellissimo Bellissimo Mazzisca la ventarina No Torna verso di là La số più Che bello Che bello Che bello Amago Un u should Amato Amato Langlo Dai Bonnie, voglio uscire anche tu? Guarda, ci sono anche tante formichine Sì, ho visto Vieni, Bonnie Voglio uscire Guarda le formichine, l'hai vista? Vedo che viti dall'altro Intanto Matisse E qua Sì, intanto Bonnie ci vorrà un po' Sì, anche lui Eccoli tutti e due Ma che bravi che siete, gattini Ma che belli Dove stai andando, Bonnie? A casa? Va a casa Sto andando a casa Buona, è venuta qui dal portoncino Boverina Sa che da qui si torna a casa Il nena Bene Ah, vedi che c'è il posto per le luci qui Mettilo vicino All'albero No No, l'arma gli dà fastidio Sì, sì No, l'erba è partita Prima che c'era l'uccello Mi fa un po' senso l'erba Fa un po' senso l'erba Veda Mi fa l'e La mia Candice E Un po' senso Tornate a casa Bonnie è andata dentro il trasportino di Matisse che sente gli odori da lontano del giardino dopo l'esperienza Matisse si liscia il pelo Siamo stati giù un'oretta dopo aver portato il Esatto, gli avrò preso dentro un po' di pelo nella cinturina Ecco Matisse, Bonnie va a controllare Matisse Si riconoscono, bravi Matisse si sistema dopo aver portato la pettolina che gli ha disordinato il pelo Però siamo stati molto contenti, devo dire Vero? Molto soddisfatti di questa esperienza Quindi questa esperienza è stata molto positiva e la rifaremo se non altro con Matisse Arriva anche con Bonnie, proverà ancora una volta un po' per volta la si abitua Ma Matisse penso che sia stato proprio contento Adesso farà dei bei sogni stanotte Ciao a tutti!